Nel 2015 fu introdotto un dispositivo orientato a tutti quei professionisti alla ricerca di un device supercompatto ma allo stesso tempo che gli desse la possibilità di effettuare tutte le classiche operazioni giornaliere di un professionista. Parliamo di iPad Pro e oggi, o meglio ieri, è stata presentata la sua quarta edizione. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati qui sul canale di PringiLuca. Prima di cominciare volevo ricordarvi che se non lo avete ancora fatto dovete iscrivervi al canale, attivare la campanellina e lasciare un bel like a questo video. Ovviamente qui sotto in descrizione trovate i link per tutte le mie pagine social dove dovete assolutamente seguirmi. Il 18 marzo 2020 Apple rilascia sul sito senza alcun preavviso il nuovo dispositivo, ovvero iPad Pro di quarta generazione. E oggi andremo insieme ad analizzarlo. Partiamo subito con lo smentire quelli che sono stati alcuni rumor. Partendo dal display c'era chi aveva annunciato che ci sarebbe stato un unico modello da 12 pollici. E beh, così non è stato perché ci sono rimasti i classici due modelli, uno da 11 e l'altro da 12,9. Inoltre c'era chi diceva che ci sarebbe stato lo stesso identico blocchetto di fotocamere di iPhone 11 Pro. E beh, così non è stato perché appunto qui abbiamo solo due ottiche e con un'aggiunta veramente molto interessante che andremo ad analizzare dopo. Inoltre c'era stata una piccola notizia che annunciava che ci sarebbero stati i bordi ancora più ridotti. E beh, non ci sono specifiche ma mi sembrano esattamente identici a quelli precedenti. Passiamo adesso alle cose che effettivamente sono state introdotte su questo dispositivo. Primo aggiornamento e per quanto mi riguarda il più importante è sicuramente la Magic Keyboard di nuova generazione che ci dà la possibilità con un nuovo design di andare ad inclinare quello che è l'iPad a nostro piacimento tenendolo praticamente sospeso sopra i tasti. Abbiamo inoltre una USB Type-C e non intendo quella sull'iPad ma sulla Magic Keyboard che chissà se potremmo utilizzare contemporaneamente entrambe le porte ma sicuramente è molto interessante nel momento in cui noi andremo ad utilizzare l'iPad in modalità laptop in modo tale da non avere un cavo a penzoloni ma averlo molto semplicemente che esce dal laterale dell'iPad nella parte più bassa. Tutto il design è stato redisegnato assumendo delle caratteristiche che a vista sembrano molto più resistenti come ad esempio la tastiera che assume dei caps identici a quelli di un laptop classico con le stesse dimensioni e con dei tasti esattamente fisici non come i precedenti. Finalmente abbiamo un trackpad richiesto da tantissime persone con un cursore che sembra essere intelligente ovviamente usufruibile anche con mouse. Passando all'iPad oltre all'aggiornamento per quanto riguarda il processore un A12Z Bionic veramente molto interessante che sembra essere molto più veloce rispetto alla maggior parte dei laptop in circolazione abbiamo appunto il nuovo blocchetto delle fotocamere che presenta due obiettivi uno da 10 megapixel, un ultra grande angolare veramente molto ampio e un grande angolare classico da 12 megapixel. Come possiamo notare oltre al foro del microfono e del flash abbiamo un ulteriore foro che su iPhone 11 Pro è occupato dal teleobiettivo. Beh, qui hanno deciso di introdurre uno scanner. È chiamato LiDAR. Il suo scopo è quello di calcolare le distanze misurando il tempo che la luce impiega a raggiungere un oggetto e venire riflessa. Non so esattamente per cosa verrà utilizzato. Secondo la mia opinione sarà utilizzato in ambito fotografico come ad esempio per calcolare lo shutter speed o altre cose del genere. Bene ragazzi, tutte le novità più interessanti di iPad Pro erano racchiuse all'interno di questo video. Spero che vi sia piaciuto. Vi raccomando, fatemelo sapere con un like e con un commento qui sotto. Se non l'avete ancora fatto, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche. Qui sotto in descrizione dateci un'occhiata perché ci sono tanti link utili come quello per seguirmi su tutte le mie pagine social. Detto questo, io vi saluto e vi ringrazio per aver visto questo video. Noi ci vediamo prossimamente sempre qui sul mio canale YouTube. Grazie. 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 Grazie.